Siamo in Napoli, domenica 11. Che giorno è oggi? Oggi è 30 luglio, domenica 11, sabato. Sì? Dove ci troviamo? Dove ci troviamo? A Napoli. Qua c'è stato un sotterraneo e voglio costruire una metropolitana. Stanno costruendo una metropolitana? Vedete là? Vedete là? Una palla di cannone che poi l'hanno sparata là. E avevano costruito... Hanno costruito il castello. E avevano costruito... Facevano tipo una guerra. Allora stavano all'attacco. Proseguiamo la ripresa. Andiamo a fare la ripresa. Un parco molto... Adesso andiamo al parco Vittoria. Grazie Vittoria. Grazie Vittoria. Abbiamo detto come si chiama questo castello. Si chiama... Già dove sei scordato? Maschio... Maschio. Maschio? Maschio Angio. Angioil. Angioil. Maschio Angioil. Angioil. Es de questo, questo è gremio. Es di cricola. E' dedic Soziala? Che èaddero qua? E' dedicato assolutamente in uso.